Per aggiustare il tubo sottostante dobbiamo rompere la strada. Ricordi cosa ho detto sull'uso del martello pneumatico? Sì, di piazzare il martello in questo modo leggermente inclinato verso di me. Vuoi che ti mostri come? Sì, per favore. Molto bene. Come, scusa? Ops, non riesco a sentirti con le cuffie addosso. Ho detto molto bene. Puoi continuare qui mentre io vado a prendere il tubo? Certamente, Bob. Ottimo. Mi raccomando, ricorda di tenere le cuffie antirumore mentre stai lavorando. Leo! Ciao, Mac. Che cosa c'è? Bob dice che puoi fare una pausa. Wendy ha preparato un dolce. Una falce? Non so, forse ne abbiamo una in cantiere. Leo! 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 Ciao, Mac. Non ti avevo visto. Che c'è? Vuoi un pezzetto di dolce, Leo? Non sai quanto è buono e bello. Un martello? Ah, certo. È nella cassetta degli attrezzi. Leo! Ciao, Mac. Che cosa ti serve? C'è rimasto solo un pezzettino di dolce. Il ripieno è con la crema di zabaione. Una magnifica trivellazione. Ehi! Grazie, Mac. Come mai Leo non ha voluto assaggiare la torta che ho preparato? Beh, non sa cosa si è perso. Ah, perso che cosa? Il dolce di Wendy. Mi dispiace tanto, ma è finito. C'era una torta! Perché nessuno me l'ha detto? Mmm...